La religione e l'umanesimo tra scienza e fede è questo il tema del convegno tenuto a Brindisi dal Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente Emerito del Pontificio Consiglio della Cultura. La nuova tecnologia, l'intelligenza artificiale, la guerra e i giovani, tante tematiche che guardano al futuro, che guardano a questo dibattito che da sempre ha diviso la scienza e la fede, ma anche sul nuovo umanesimo che deve portare a una nuova idea, non solo di cultura, ma anche di fede. In questo orizzonte così complesso come quello che è stato delineato, io vorrei soltanto ricordare due percorsi. Da un lato, in passato, spesso scienza e fede sono entrate in collisione tra di loro. Tutti citano sempre il caso Galileo. Ora sempre di più ci si orienta a riconoscere un elemento fondamentale, che si tratta di due itinerari paralleli e non sovrapponibili, che cercano di scoprire da angolature diverse il senso della realtà. La scienza dimostra l'aspetto fenomenico, si dice, cioè ciò che sta nella scena esteriore, mentre filosofia, teologia, arte e così via cercano di scavare nella risposta di senso. Ai nostri giorni però tutto è stato un po' rimesso in discussione attraverso le nuove tecnologie, soprattutto l'intelligenza artificiale, che da un lato può rivelare elementi molto rilevanti dal punto di vista generativo, ma anche degenerativo.